Buongiorno, sono Stefano Bottari, sono un chirurgo generale. Mi occupo però in particolare di urologia e di andrologia operativa. Negli ultimi detti ho avuto opportunità di assistere ai interventi del dottor Antonini che effettuava un impianto di protesi peniere idrauliche con tecnica mini-invasiva. Ho trovato questa tecnica oltre che innovativa, anche più sicura e con meno fastidi assolutamente accusati dal paziente. Anche le complicanze a distanza e immediate sono decisamente inferiori e la ripresa funzionale è accelerata al massimo. Sono rimasto talmente entusiasta che da un po' di tempo a questa parte pratico anch'io questa tecnica mini-invasiva con buoni risultati.